In seguito alle elezioni del 4 marzo, Mauro Laus, presidente uscente del Consiglio regionale del Piemonte, si prepara a salutare Torino per intraprendere la sua nuova attività di senatore. Presidente, lei oggi l'ha definito come l'ultimo giorno di scuola, cosa significa? L'ultimo giorno di scuola è una battuta, nel senso l'ultima conferenza stampa, la firma del protocollo con l'ufficio scolastico regionale. È un'iniziativa importante ed è l'ultima iniziativa, domani sarà l'ultimo giorno del Consiglio regionale, in aula farò solo un brevissimo saluto e sono dispiaciuto, sono contento perché dovrò occuparmi di politiche, problemi, questioni delicate e complesse nazionali rispetto a quelle locali e regionali. Aver vissuto umanamente, professionalmente, politicamente da 14 anni il Consiglio regionale, certo mi lascia un po'... sono molto dispiaciuto, mi dispiace molto. Mi viene in mente la gestione che ho avuto del Consiglio regionale, spero di non aver urtato la sensibilità di nessuno, ma i dati mi confortano e mi consegnano dei messaggi molto positivi. Quindi ringrazio tutti i colleghi, destra, sinistra, Movimento 5 Stelle, tutti, la struttura. Quindi quando ho detto che è l'ultimo giorno di scuola, è un pensiero che confeziona sentimenti, umore, tutto. Questo è l'ultimo giorno di scuola, non della politica ma di questa esperienza. Il territorio si lascia alle spalle? Un territorio sicuramente più competitivo rispetto al resto del Paese. Un territorio però che è in difficoltà, perché anche nel nostro territorio il problema della povertà deve essere affrontato, il problema dei giovani, il problema della competitività del nord-ovest con il nord-est. Un territorio che ha bisogno di tanti interventi ancora strutturali. Un messaggio al suo successore? Un messaggio al mio successore è di continuare a tenere alto e continuare a fare provvedimenti finalizzati ad aumentare sempre di più la credibilità del Consiglio regionale, a promuovere la cittadinanza attiva con le scuole, a non abbandonare gli stati generali dello sport e del benessere in termini di prevenzione, a non abbandonare le azioni politiche, anzi a implementarle, del Comitato dei diritti umani e ad essere veramente superparte se non di parte. Io durante questa presidenza del Consiglio regionale ho avuto sempre tante cose da dire però sapevo di ricoprire un ruolo superparte se tante volte ho evitato di fare delle esternazioni. Il Presidente del Consiglio regionale è il Presidente di tutti i piemontesi e non di una parte.